Era l'ottobre del 1962 quando l'allora vescovo ausiliare di Cracovia, Carol Voitila, poi divenuto Papa Giovanni Paolo II, si recò in visita privata sul Gran Sasso e fu colto da uno scatto fotografico alla base della funivia in località Fonte Cerreto. L'Associazione Culturale San Pietro della Ienca, per celebrare e riconoscere le vestigia del Papa che più di tutti amò il Gran Sasso, ha installato una targa su una struttura muraria nel complesso della base della funivia nello stesso luogo in cui fu scattata la foto nel 1962. L'iniziativa, supportata anche dal Comune dell'Aquila, dall'ente parco, dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di Assergi, è stata accolta con grande calore dagli operatori turistici. A legittimare il ricordo di Papa Giovanni Paolo II, tra gli altri anche Monsignor Pavel Paznik, della Segreteria di Stato Vaticana, rappresentanza dell'autore della foto di nazionalità polacca, che è scomparso recentemente. A San Pietro della Ienca, a 4 chilometri, è nato il primo santo del mondo di Santo Giovanni Paolo II. Questa foto fu trovata su internet di Giovanni Paolo II, che parlava di Giovanni Paolo II, mia figlia me la fece vedere e io riconobbio subito il posto. Anche voi lo potete vedere, il posto è questo. Ed è un valore, un riconoscimento di sicuramente Santo Giovanni Paolo II, quando ha fatto questa foto, è la prima volta che è venuto qua al Fonte Cerreto e sul Gran Sasso. E sicuramente da allora si è innamorato di questa montagna, quando è vero poi ci sono state tantissime visite, molte, molte visite, e quando è vero è nato il primo santuario al mondo di Santo Giovanni Paolo II a San Pietro della Ienca.